o salve non vi avevo proprio visti si sto sketch non funziona più e poi la quarta volta che lo rifaccio perché sono sveglio da 20 minuti ho solo caffè in corpo e devo ancora svegliare la giornata è lunga oggi è sabato il giorno prima di quando vedrete queste 4k news of the settimana è appena svegliato ho tempo adesso per fare il video montarlo dopo a pranzo e poi spararvelo per abbonati oggi in anteprima e anche per voi tutti domani ma comunque sì avevo anche il disco in mano per fare lo sketch ma mi sono completamente perso comunque questo è il disco sostitutivo del box di coffin joe quello dell'arrow video di cui vi ho già fatto l'unboxing qualche settimana fa c'era un problema con un disco sinceramente io non me lo ricordo neanche più che problema avesse però è bello come prendi il cofanetto dal arrow di coffin joe arriva dai ok senza dogana poi arriva il disco sostitutivo in una bustina cioè spedito da you can una bustina e non ha valore questo non ha un valore dichiarato cioè è un chiamiamolo omaggio insomma no e paghi 2 euro e 09 di dogana cioè cofanetto da 130 euro quasi no disco sostitutivo così nudo e crudo 2 euro e 09 che non ha valore io non la capirò mai la dogana io non la capirò mai comunque ben ritrovati nelle 4k news of the settimana scusate se sono ancora addormentato ma questo è il momento per registrare il video oggi è una giornata bella piena gli esercizi scritti qua dietro no è un foglio pulito sto giro comunque ragazzi mi scuso per la mia memoria perché adesso leggendo qualche titolo mi è venuto in mente ma non lei cioè uno si l'ho già detto ma ma non hai già detti due titoli non li avevi già accennati poi non buttarsi tutti i fogli ci avessi un bel documento con il computer digitale con tutta la roba che ho già detto però non tengo niente del passato mi affido questa è non bisogna affidarsi a questa non bisogna comunque ragazzi prima di tutto prima di partire grazie per il supporto di intode studio che continua a essere visto continua a essere commentato grazie per il supporto di intode studio e anche intode cantina io ho detto senti faccia sto video qui tanto per o porca vacca ragazzi siamo già quasi 600 click quasi 600 click per me in un giorno cioè il rating è veramente alto la visualizzazione media è alta o grazie ragazzi del supporto cioè io smetto di fare recensioni inizio andare in giro però vedete come questo tipo di video piace il fatto è che non ho materiale cioè ho ancora la cantina di mio papà dove troppo tutte le altre action figure i miei vecchi libri qualche videocassetta potrei fare una terza parte di intode cantina ma quasi quasi dai quasi quasi potrei fare una terza parte comunque ragazzi partiamo con le 4k news of the settimana sennò qui andiamo avanti 20 ore e non va bene allora 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 innanzitutto mi raccomando iscrivetevi ai canali telegram e whatsapp dintode 4k con le news ogni news nuova una foto di una nuova steelbook io butto tutto lì dentro è veloce e comodo siamo 800 ragazzi siamo 800 all'interno del canale telegram e ragazzi altra cosa importante siamo a 2700 iscritti nel canale io vi ringrazio si è già dall'altra settimana che sono 2700 ci sono arrivato ma io finché non sono a 2715 come adesso non mi sento sereno di dirlo davanti alla camera quindi che perdo 15 iscritti proprio dall'oggi a domani mi sembra un po strano anche se youtube ha fatto qualche scherzetto ultimamente cioè a volte vai giù di 4 5 7 iscritti e poi ne guadagni 14 boh non si capisce se non si capisce comunque ragazzi siamo a 2700 e io vi ringrazio ma canali telegram e whatsapp delle news pre order eccetera eccetera poiché sono partiti pre order dei nuovi titoli della eagle tra cui d'artagnan milady il secondo capitolo una storia vera persepolis 4k alt ma anche qualche titolo sony che uscirà da noi moon il film di duncan jones ma anche fiori d'acciaio ve l'avevo detto qualche settimana fa il film con giulia roberts e fiori d'acciaio ve l'avevo detto che arrivava da noi e infatti è partito il pre order eagle della sony e poi è partito anche il pre order della steelbook trilogy di oceans 11 12 e 13 ma anche di ocean one ocean 2 cioè ocean 11 e ocean 12 steelbook non ancora del 13 amazon sblocca un pezzettino ogni tanto se la prende con calma ma è partito anche il pre order della ultimate collector edition di american sniper che a parte essere upscalato avere l'hdr l'atmos c'era già nel blu ray l'audio italiano sarà lo stesso del blu ray dolby digital 5.1 gli extra saranno gli stessi del blu ray cambia il pacchetto e c'è l'hdr non lo so quanto potrà influire sulla resa video di american sniper ma aspettiamo la versione 4k per dare un parere l'ho già tirata troppo lunga comunque sono partiti pre order nei miei canali telegram e whatsapp trovate sempre tutto lì sempre tutto lì veloce immediato ok senza post commenti vuoi prenotarlo lo prenoti non vuoi prenotarlo non lo prenoti trovi tutto lì fai quello che vuoi poi partiti due pre order all'estero ovvero il film team america dai creatori di south park un film mitico e cioè nella nostra testa rimane solo matt damon matt damon fantastico meraviglioso poi la scena con la pipì la cacca io avevo preso il blu ray estero perché nel blu ray europeo aspettano adesso sto facendo confusione comunque o era il dvd comunque la versione da noi era censurata e io comprai anche la versione estera perché c'era la scena di quando fanno sesso con la pipì e la pupù pazzetti va la pipì e pupù meraviglioso meraviglioso uscirà in 4k per adesso in america ma ve lo dico già non arriverà da noi da noi non è previsto non arriva ed è partito anche il pre order di rango il film di govern binsky bello 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 a me piace un sacco doppiato da johnny depp il personaggio principale uscirà in 4k steelbook veramente una steelbook carina ma era già l'artwork del blu ray che era carino quindi applicato da steelbook ci sta proprio bene uscirà in america uscirà anche in germania si vocifera con l'italiano in germania ma poi può sempre cambiare all'ultimo momento sono pre news diciamo intuiscono che ci sarà l'italiano ma non si sa se ci sarà l'italiano non lo so però dovrebbe uscire a giugno e anche questo confermato che non arriverà da noi se per caso ci sarà l'italiano in germania se lo compreremo dalla germania perché da noi non arriva confermato è confermato ma cosa uscirà prossimamente ufficiale ufficiale dalla warner uscirà terminator terminator il primo film con schwarzenegger di james cameron uscirà in 4k per la warner e io sono molto contento e sono molto curioso se ci hanno messo le mani come true lies aliens o anche the abyss titanic intelligenza artificiale nell'immagine o magari se l'è pigliato la warner lo fa così nudo e crudo senza passare per dietro james cameron non lo fa sono molto curioso di questo molto curioso comunque prossimamente ragazzi poi uscirà anche questo ero dubbioso purple rain con no quello michael jackson prince faceva com'è che faceva un batman o porca vacca non mi ricordo più comunque uscirà il 4k di purple rain prossimamente anche questo all'estero in qualche sito danno l'italiano già all'interno come previsione quindi prevedo che arriverà anche da noi ma uscirà a settembre anche la piccola bottega degli orrori se c'è qualcosa che ho già detto nelle scorse settimane vi chiedo scusa perché non me lo ricordo uscirà la piccola bottega degli orrori il film di joe dante con rick moranis uscirà in 4k a settembre e le specifiche estere danno già l'italiano all'interno non si sa se ci sono nuovi extra non si sa ancora ma essendo warner per me proprio no più che il nuovo master hdr e probabile nuovo remix in inglese sarà sempre la stessa roba vecchia e a volte la roba anche di dvd viene dimenticata nel passaggio a blu e 4k a volte comunque uscirà anche lo so che lo aspettavate tutti the green lantern nel film supereroe con ryan reynolds il film che tutti noi abbiamo dimenticato ragazzi l'ho visto una volta poi l'ho rivisto un'altra volta in 3d che me l'ero comprato in 3d ai tempi a me non era già piaciuto la prima volta non mi era già piaciuto non mi aveva preso che vi devo dire so che a vari vari pochi piace questo film quindi esce in 4k forse anche magari per sfruttare un po l'uscita di death pool così sapete c'è death pool però noi vi facciamo vedere anche in 4k l'altro con ryan reynolds o magari per sfruttare un po quest'onda lì e uscirà a luglio a luglio e danno anche qua l'italiano all'interno del 4k all'estero ma cosa uscirà anche a settembre per la warner uscirà il film di paul thomas samson boogie nights un film bellissimo fantastico veramente bello che da noi è uscito sotto cg il blu ray ma adesso esce all'estero ragazzi ma mi sembra che all'estero era già sotto warner uscirà in 4k per la warner le specifiche tecniche di questi titoli non si sanno ancora hdr sicuramente uscirà a settembre da noi ragazzi punto interrogativo finché non uscirà o qualcuno dirà una news oltre me lo scopriremo lo scopriremo ragazzi ma questo l'ho detto questo l'ho detto questo l'ho detto cosa uscirà per l'acchino il 21 maggio in america uscirà il film di abel ferrara il cattivo tenente cattivissimo harvey keitel con un nuovo master 4k scansione negativi originali 35 mm avrà dts hd master audio 5.1 e 2.0 oltre che il dolby vision e all'interno un documentario d'epoca il trailer il commento con abel ferrara il direttore della fotografia una nuova intervista con il direttore della fotografia e un nuovo speciale sui luoghi delle riprese del film quindi cattivo tenente estero da noi non mi ricordo neanche più chi ce l'ha da noi il cattivo tenente e o se è uscito in blu ray anche perché non ho mai visto il cattivo tenente ho visto solo quello con nicolas cage che non mi era dispiaciuto e con nicolas cage non mi era dispiaciuto ma mi dicono harvey keitel e harvey keitel direi di chiudere queste 4k già lunghe ragazzi già lunghe news della settimana con due news intanto a fine giugno arriva da noi la steelbook di taxi driver in 4k quindi se voi non avete comprato il columbia classics state tranquilli che taxi driver finalmente arriverà in edizione singola steelbook non c'è ancora un'immagine della steelbook quella che gira quella del 1080p vecchio se poi la riutilizzeranno per il 4k non si sa uscirà a fine giugno da noi e vi posso dare già un'anteprima ma ragazzi queste news cioè le potete vedere anche voi tanto li guardiamo tutti questi siti di blu ray esteri di news sono quelli che guardate voi li guardo pure io io le prendo in giro e ne ho non è che me li metto così sono tutti i siti che già voi guardate ogni giorno se siete come me guardate ogni giorno ma vi lascio con una anteprima di ghostbuster the frozen empire no senza il the frozen empire film che a brevissimo uscirà anche da noi non è stato accolto con recensioni positivissimissime non è stato accolto alla grande però queste sono già le due steelbook qua le due steelbook che usciranno in america che usciranno in uk che usciranno anche in germania e in altri paesi e anzi in germania dicono che dal sito della play on uscirà anche una terza steelbook ma anche all'estero c'è una terza steelbook che devono ancora svelare quindi chissà se arriverà anche da noi secondo me sì sony eagle secondo me arrivano tutte le steelbook e la data se esce adesso aprile maggio per me giugno luglio dovrebbe già uscire non penso che spaccherà tutto ai botteghini quindi boh non penso che ci vorrà tanto per l'uscita su disco comunque ci aspettiamo già un bel dolby vision sicuro italiano l'atmos se n'è andato ddshd master audio 5.1 atmos inglese e vabbè ragazzi aspettiamo io se riesco ad andare al cinema se sono già padre non sono già padre chi lo sa in quella data di uscita di ghostbusters se riesco ad andare ad andare al cinema comunque ragazzi grazie per avermi seguito ancora oggi e ragazzi nei giorni scorsi sono partiti anche i pre order di dune 2 e io potessi darvi un abbraccio vero ve lo darei perché grazie grazie non nascondo non nascondo niente ragazzi sapete esattamente quanto si guadagna il 6 per cento tolta l'iva di ogni film in buoni amazon che ragazzi offerta di primavera io ho speso in shark 1 e 2 il primo non l'avevo mai fatta il 2 c'è l'atmos italiano devo sentirlo prossimamente nel canale io li spendo per questi film ho preso anche wonka 1 ho visto wonka il nuovo mi sono recuperato wonka 1 io li uso per cose per il canale si rompe un cavo per caricare la batteria delle cose per il canale il rig che sta tenendo in questo esatto momento il cellulare mi sono costruito il rig c'è i filmati all'interno me li copiano il computer il microfono uno si era rotto non è dovuto prendere un altro tutta roba per il canale quindi non comprerò mai una villa alle hawaii però il supporto che mi avete dato con dune e ha superato the batman the batman è stato il mio top come pre order è stato il mio top poi ora che esca il film tanti avete prenotato tutte tra le steelbook ma poi finché non ci saranno le immagini poi me l'avete già detto io di quelle tre appena spunta e cancello le altre prenotazioni quindi le prenotazioni scenderanno però comunque è già partito oltre the batman e io vi ringrazio di cuore per scegliermi nel panorama dei 4k scegliere me perché grazie cioè grazie non so che altro dire vi ringrazio tantissimo io spero sempre con cortesia e gentilezza di entrare nelle vostre case e regalarvi qualche minuto qualche sorriso insomma ragazzi ma questo è il mio lavoro io voglio rendervi migliore la giornata per quel poco che riesco come questa domenica che sta già diventando lunghissima con questo video però davvero grazie come into the cantina into the studio come tanti qua cioè guardate ragazzi io guardo tanti filmati su youtube ea me piace quando soprattutto americani ed italiani ne seguo veramente poco niente entrano in casa mia in quel momento quei 10 20 minuti fanno una cosa da casa loro con i loro mezzi una cosa che a me piace mi fa stare bene cioè vedere quei video quindi io spero di portare le stesse emozioni a casa vostra con film 4k così e con qualche risata ragazzi con qualche risata da andare avanti con l'odio a giudicare gli altri puntare il dito non mi piace non è proprio il mio stile non mi piace ce ne sarebbero di dita da puntare ma non mi piace assolutamente quindi ragazzi ci vediamo in un prossimo video di into the 4k e scusate lunghissimo ho detto mi sveglio faccio il video e leggo le notizie proprio veri flash non ce la faccio io devo parlare con voi devo devo creare una connessione io non ce la faccio essere veloce vi chiedo scusa vi chiedo scusa quindi ci vediamo in un prossimo episodio di into the 4k adesso vado a finire di montare l'autoradio con il babbo buona domenica a tutti da che il tempo è bello finito l'inverno è finito l'inverno è finito ci vediamo in un prossimo episodio di into the 4k sayona da tutti e bye bye ciao ciao Grazie a tutti.